salve buonasera a tutti e benvenuti sul mio canale allora questa sera andremo a fare il tutorial di questo orecchino allora io volevo prima fare degli orecchini diversi di diverso colore e poi fare il tutorial ecco presso tanti tantissimi cipollotti però visto che è piaciuto tanto e ho detto è giusto prima fare il tutorial e poi farò un altro video dove io presento soltanto gli orecchini allora mi è stato chiesto se si poteva fare con i cipollotti 6x4 allora io ho provato penso di sì sì si può fare cambia forma eccolo qua allora se andate a farlo con i cipollotti i 6x4 viene bene lo stesso è bello però resta leggermente aperto qui nella parte diciamo centrale però resta bello 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 anche in questo modo quindi se non non trovate oppure se avete soltanto i cipollotti 6x4 potete farli così allora comunque questo orecchino nasce con i cipollotti i 6x8 i 6x8 vengono viene in questo modo allora questa parte di sopra se avete fatto il ciondolo eccolo qui allora fiore d'inverno è identica è uguale eccolo qui semplicemente io qui ho messo un cipollotto un 3x4 invece qui ho messo il cipollotto quello grande e niente questo si fa in pochissimo ma in pochissimo tempo è molto veloce è molto bello e quindi iniziamo subito con il tutorial a questo fondo io l'ho chiamato ciondolo estate quindi iniziamo subito con il tutorial per prima cosa noi dobbiamo inserire ecco qui allora bisogna inserire come ho fatto io quattro cipollotti 6x8 qui perché non ho messo di più ho sbagliato ok e bisogna allora dopo il cipollotto bisogna inserire tre rocai 11 0 quindi un cipollotto 6x8 e tre rocai 11 0 un cipollotto poi tre rocai 11 0 e così via come ho fatto io quindi poi bisogna richiudere come facciamo sempre chiudiamo a cerchio ripassiamo nelle diciamo nelle perline e nei cipollotti facciamo dei nodini e poi ci vediamo dopo poi dopo che abbiamo fatto questo lavoro cosa dobbiamo fare dobbiamo portarci ad uscire dalla rocaia rocaia 11 0 questa centrale io però non vi ho elencato i materiali comunque servono le 11 0 della miuki i cipollotti 6 per 8 e i cipollotti 3 per 4 allora ci portiamo ad uscire dalla rocaia 11 0 allora da questa qui centrale dobbiamo inserire prendere tre rocai 11 0 allora usciamo ecco qui usciamo qui e praticamente dobbiamo tornare indietro per formare un picco ok passiamo nell'altra rocaie nel cipollotto e ci dobbiamo portare ad uscire da questa centrale ecco qui e facciamo la stessa identica cosa e dobbiamo inserire tre rocai 11 0 esco nel davanti e torno indietro allora facciamo così per tutto il giro ecco adesso vi faccio vedere il filo è sempre lungo ok allora praticamente noi nella rocaia centrale dobbiamo formare un picco fate così per tutto il giro e poi ci vediamo dopo a questo punto dopo che abbiamo fatto i picco cosa dobbiamo fare dobbiamo risalire uscire dalla rocaia 11 0 questa della punta e dobbiamo fare lo stesso identico lavoro che abbiamo fatto con il ciondolo fiore d'inverno quindi usciamo dalla rocai 11 0 dobbiamo inserire allora ecco qui e vi faccio vedere una rocai 11 0 un cipollotto 6x8 una rocai 11 0 un cipollotto 6x8 una rocai 11 0 un cipollotto 6x8 e una rocai 11 0 quindi noi usciamo dalla rocai 11 0 e rientriamo nella punta della rocai 11 0 quindi dovete fare così per tutto il giro ecco qui fate così per tutto il giro da anche in questa parte in questa parte in questa parte in questa parte e poi ci vediamo dopo ok dopo che abbiamo fatto diciamo il lavoro dobbiamo portarci ad uscire da una rocai 11 0 questa qui ok allora il lavoro vi risulta morbido come è successo con il fiore d'inverno però poi alla fine quando andremo a mettere il cipollotto e faremo anche il lavoro dietro si si come si dice si rende rigido allora anche qui io ho messo 3 rocai 11 0 un cipollotto 3x4 e 3 rocai 11 0 questi sono i 6x4 perché altrimenti resta troppo aperto il buco quindi dovete fare lo stesso identico lavoro allora uscite dalla rocai 11 0 dobbiamo inserire 3 rocai 11 0 un cipollotto 3x4 e 3 rocai 11 0 ecco qua poi ci portiamo dobbiamo entrare nel cipollotto questo grande vediamo se riesco ecco qui allora ci sono riuscita è perché ecco qui adesso devo tirare tutto il filo si è tutto allentato ecco qui allora dopo che abbiamo fatto questo lavoro ok ok cosa facciamo dobbiamo inserire 3 rocai 11 0 e dobbiamo inserirci solo nel cipollotto ok ecco qui poi dobbiamo prendere altre 3 rocai 11 0 e dobbiamo entrare nella rocai 11 0 nel cipollotto 6x8 ok rientrare nella rocai ecco qui e fate la stessa identica cosa in questi altri in questi altri archetti fate così per tutto il giro e poi ci vediamo dopo allora quindi io ho quasi terminato il giro scusate perché a volte faccio un po di confusione 6x4 3x4 questi sono i 3x4 e questi sono i 6x8 ok allora io sto terminando il giro quindi sono uscita dalla rocai 11 0 poi rientro nel cipollotto 6x8 ecco qui poi inserisco 3 rocai 11 0 e mi vado a inserire nel cipollotto 3x4 quindi dovete fare lo stesso identico lavoro che abbiamo fatto con il cipollotto il fiore d'inverno poi entro nel cipollotto nella rocai 11 0 e quindi abbiamo terminato il nostro giro ecco qui poi cosa facciamo dobbiamo scendere giù ecco scendere giù ecco scendere giù allora allora dobbiamo scendere giù sì allora dobbiamo scendere giù e portarci ad uscire dal cipollotto 6x8 quindi ecco qui questa è la parte del dietro questo è davanti e questo è il dietro e abbiamo quasi finito ma è semplicissimo allora e dobbiamo inserire adesso vi faccio vedere ok quindi dobbiamo inserire un cipollotto una rocai 11 0 un cipollotto 3x4 una 11 0 un cipollotto 3x4 e una 11 0 quindi come ho detto dobbiamo uscire da cipollotto 6x8 e dobbiamo rientrare nel cipollotto 6x8 ok poi dobbiamo risalire sopra allora ecco qui dobbiamo ripassare ecco qui poi dobbiamo riscendere giù vi faccio vedere tutto il passaggio mannaggia mannaggia il filo no non si è impicciato allora dobbiamo ripassare come sto facendo io ok quindi allora siamo siamo entrati qui poi siamo risaliti e risaliti siamo entrati qui in queste tre rocai siamo risaliti nei tre cipollotti e dobbiamo scendere giù nel cipollotto 6x8 dobbiamo rinserire la stessa sequenza un cipollotto sì una rocai 11 0 un cipollotto 3x4 una 11 e una 11 poi ci dobbiamo rinserire nella nel cipollotto 6x8 e dobbiamo rifare così per tutto il giro e poi ci vediamo dopo allora io a questo punto sto terminando il mio giro sono uscito dal cipollotto 6x8 e risalgo qui e abbiamo finito allora allora mi dico se non si impiccia allora ecco qui ma che è successo allora ecco qui e abbiamo terminato il giro quindi giro il lavoro allora passo nella rocai e nel cipollotto 6x8 o no? no sì esco dal cipollotto 6x8 dobbiamo fare il cappio allora io il cappio lo faccio in questo modo ci metto la rocai e sì il cipollotto 3x4 quindi inserisco 3x4 e 5 quindi inserisco 5 rocai e 11 0 4x4 e 5 il cipollotto 3x4 e porto giù adesso vi faccio vedere poi 1 2 3 4 e 5 ok allora quindi esco dal cipollotto inserisco 5 1 2 3 4 perché ne ho messe 4 ne dovevo mettere 5 vabbè no non va bene ah mi sono sbagliata inserisco 5 rocai 11 0 il cipollotto e altre 5 rocai 11 0 allora allora ecco qua 4 e 5 ok quindi facciamo così allora 5 rocai 11 0 un cipollotto 3x4 e 5 rocai 11 0 cosa faccio? io poi mi infilo direttamente nel cipollotto qua qua dobbiamo poi tirare poi inserisco 5 rocai 11 0 allora 3 4 e 5 ed ecco qui che l'orecchino è finito ok poi naturalmente faccio facciamo dei nodini tiriamo perché se no è lento il lavoro ecco qui vabbè comunque dobbiamo ripassare dobbiamo ripassare e poi l'orecchino è finito quindi allora il tutorial è fatto io vi ringrazio tantissimo per i complimenti che mi avete fatto perché l'orecchino è piaciuto tanto e poi farò un altro video soltanto per per far vedere gli orecchini che farò di questo colore quindi io vi saluto e grazie e arrivederci